50.000 dipendenti pubblici tra impiegati statali, militari e poliziotti. Tutte le novità con Umberto Gambino. Da carriere più rapida e con scatti per il merito a salari più consistenti. Il nuovo contratto interessa 225.000 dipendenti delle funzioni centrali dello Stato e 430.000 del personale non dirigente delle Forze Armate e dei Servizi di Polizia per il triennio 2019-2021. L'approvazione definitiva spetterà alla Corte dei Conti per poi passare alla firma finale del contratto. Dopo questo passaggio burocratico, gli oltre 650.000 interessati riceveranno una busta paga più pesante già dal mese di maggio, inclusi arretrati fino a un massimo di 2.500 euro lordi. Gli aumenti variano da 63 euro lordi mensili per gli operatori della prima fascia fino a 117 euro mensili per i funzionari di grado più elevato. La media degli aumenti, secondo quanto calcolato dall'Aran, è di 105 euro lordi mensili. Ogni dipendente avrà a disposizione in tutto il suo periodo lavorativo 5 scatti di stipendio fino a 2.250 euro lordi l'anno per i funzionari e a scalare per le qualifiche inferiori. Assegnati in base non solo all'anzianità ma anche al merito che peserà per il 40%. In questo modo saranno facilitati gli avanzamenti di carriera in base a valutazioni sul lavoro svolto negli ultimi tre anni. Con questo contratto si cambia e si modernizza la pubblica amministrazione, commenta il ministro Brunetta.